Vito perché hai scelto questa location? Allora ho scelto questa location perché è veramente un posto bellissimo, molto 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 bello, certe volte purtroppo sottovalutato e fra l'altro sarebbe anche il locale dello zio della futura sposa a cui giustamente ha vissuto qua il suo periodo di adolescenza e c'ha veramente anima e cuore. Da quando vi conoscete con la futura sposa ormai? Noi ci siamo conosciuti all'incirca cinque anni fa. Chi ha preso questa decisione? Entrambi, entrambi. Ciao! 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 Lei, signor Vito Pisciotta, intende prendere in moglie la qui presente signora Alessia Vetrano? Sì Lei, signora Alessia Vetrano, intende prendere in marito il qui presente signor Vito Pisciotta? Sì Ricevi questo anello nel simbolo di amore e fedeltà Ricevi questo anello nel simbolo di amore e fedeltà Io, Vito Antonio Clemente, ufficiale di Stato Civile del Comune di Menchi Nella qualità di sindaco, vi dichiaro il nome della legge, uniti in matrimonio Grazie Grazie